Cinque casi di morbillo registrati che hanno colpito persone in età adulta di Benevento e da alcuni centri della provincia. Sono ricoverate a Rume d'Alfatebene Fratelli, dove stanno ricevendo le cure indispensabili. Nei due ospedali è scattata inevitabilmente la procedura prevista con il coinvolgimento dell'ASL e del Ministero della Salute. A sentire gli addetti ai lavori, numeri visto il periodo, sembrano essere in linea con la media nazionale. Certo sorprende, ma non completamente, che si tratti non di bambini ma di adulti. Una circostanza che induce alla riflessione si traduce nel limito alla vaccinazione. Anche per i più piccoli non è obbligatoria figurarsi per il loro papà e le loro mamme. Ecco allora, senza distinzione anagrafica, la necessità di vaccinarsi, che riguarda anche e soprattutto gli operatori sanitari. Una situazione che ha rinfocolato lo scontro, tra quanti ritengono che i vaccini facciano male e coloro che invece sono favorevoli alla prevenzione. Perché di questo si tratta. Vaccinarsi e far vaccinare i propri figli serve infatti ad allontanare il rischio. Alte nel sannio le percentuali di copertura in età pediatrica. Ma ciò evidentemente non basta. Alte nel sannio le percentuali di copertura in età pediatrica.